Quale termine ha il ricorrente per depositare il controricorso in caso di impugnazione incidentale del controricorrente? L'articolo 371 afferma semplicemente che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente, cioè l'articolo 370, il quale dopo la riforma cartabbia stabilisce che il controricorso si deposita entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale. Pertanto è indubbio che il ricorrente, se vuole resistere all'impugnazione incidentale, ha un termine di 40 giorni. Ma qual è il di essa quo? La scadenza di 40 giorni o la data di deposito effettivo del controricorso, che può essere anche di molto anteriore? Come teorico sarei per la prima soluzione, perché mi sembra irragionevole costringere il ricorrente a controllare ogni giorno il fascicolo informatico per verificare appunto se c'è stato il deposito, ma come pratico mi attengo alla seconda soluzione. Questo implica ovviamente per il ricorrente l'onere di verificare di tanto in tanto l'eventuale deposito del controricorso, per avere un tempo a sufficienza per preparare il controricorso sull'impugnazione incidentale del controricorrente.